Adesso stiamo a casa, per ora non usciamo, ma ci teniamo pronti a prenderci per mano, cantando ancora insieme con gran felicità. E' stato assai crudele questo coronavirus, ha ucciso ed ha ammalato un mondo di persone, costretti tutti a casa senza una distinzione. Durante quelle ore, soli nel gran silenzio, abbiamo ritrovato di nostra vita il senso, quello che vale davvero e quel che fa al sito. Guardando quella luna, nel grande cielo terzo, ognuno si è sentito voler essere diverso, da quel che è stato prima, da quel che poi sarà. L'uomo ha distrutto ambienti, modificato il clima, ha pure gli sboscato, ucciso ed è predato, la splendida natura che era intorno a noi. Non più sopraffazione, di uomo sopra uomo, c'è sia uno sfruttamento di terre ed animali, è questo il cambiamento che noi dobbiamo far, che il mondo che è malato un giorno guarirà. Grazie.